Estra unico sponsor dei campionati studenteschi senesi, vediamo. 1.710 studenti coinvolti, 24 gare, 52 professori, 37 istituzioni scolastiche, 25 comuni interessati, 15 discipline sportive, atletica leggera, basket, corsa campestre, calcio, calciacinque, ginnastica, nuoto, orientamento, pallavolo, rugby, scacchi, sci, tennis da tavolo, tiro con l'arco. Sono i numeri dei campionati studenteschi di Siena che da quest'anno vedranno la partnership di Estra, una collaborazione tra sporto, scuola e un'azienda che non dimentica le proprie radici territoriali. Educare allo sport i giovani, ad una competizione sana, credo che sia un messaggio che si avvicina molto al nostro stile di lavorare nel nostro paese, nei nostri territori. D'altra parte siamo un'azienda che vuole rimanere legata al proprio territorio, anche se ha avuto una crescita molto grande, ormai siamo di rilevanza nazionale, ma non vuole perdere le radici e i rapporti con i propri territori. E quale migliore occasione se non avere a che fare con i giovani che si stanno formando, con i potuti cittadini? Per molti di questi ragazzi avere la possibilità di sviluppare un progetto in ambito motorio e sportivo significa per loro entrare in contatto con una serie di discipline attraverso l'insegnante di educazione fisica che in qualche misura non sono presenti nel territorio.